Amici e amiche carissime, bentornati o ben ritrovati, nuova puntata del ciclo di Catechesi della Madonna negli istritti di Maria Valtorta, una santa serata a tutti e anzitutto Ave Maria salutiamo sempre la protagonista e la direttrice si spera di queste serene pie e speriamo anche sane e sante condivisioni. Ci siamo lasciati due settimane fa perché come credo forse avevo detto anche in questa sede ho avuto la grazia la settimana scorsa di fare degli splendidi esercizi spirituali e di cui ringrazio il Signore e quindi ci siamo lasciati un paio di settimane fa quindi ampiamente prima dell'inizio della Quaresima ma avevamo già introdotto il Giovedì Santo e nel congedare gli ascoltatori carissimi io annunciavo insomma passeremo una grande Quaresima dei grandi venerdì di Quaresima, i venerdì di Quaresima sono giornate molto intense diciamo così di raccoglimento e di unione, di condivisione, di contemplazione dei dolori di Gesù e della sua passione quindi questo è il tempo proprio in cui molto esercitarsi in questo santificantissimo esercizio e poi il venerdì di Quaresima proprio per Antonomati ecco anche questa mattina in un post pubblico raccomandavo ai cari amici followers eccetera l'importanza della via crucis che in molte parrocchie si fa e si fa sia nelle chiese in bellissime, insomma anche delle bellissime iniziative o per possibile delle via crucis itineranti per i quartieri anche soffrendo un pochino di freddo quindi ecco chi magari questa sera sta facendo qualche via crucis itinerante in qualche quartiere della propria parrocchia sicuramente sta spendendo bene il tempo tanto poi la catechese se la vuole sentire va anche indifferita insomma quindi è tutto poi pubblicamente a disposizione e quindi annunciavo che sarebbe stata una quaresima intensa perché qui adesso abbiamo una lunghissima sezione quindi che ci vorranno diverse puntate con tutta la descrizione della passione e quindi della partecipazione di maria santissima tutta la passione di gesù come la racconta certamente maria valtorta quindi con una serie abbastanza intensa anche di di particolari no evidentemente sono episodi che li leggeremo quindi io mi troverò certamente molto in imbarazzo nel commentarli perché sono già di una eloquenza straordinaria ecco quindi mi si perdonerà se questa diciamo così parte di questo ciclo di catechesi la maggior parte del tempo sarà speso per la lettura perché dinanzi all'eloquenza assoluta oserei dire insomma del mistero della passione della morte di gesù aggiungere occhiosare insomma qualcosa risulta non sempre agevole o semplice ecco perché i dolori di gesù sono abbastanza emblematici certamente magari evidenzieremo coglieremo insieme ecco alcuni aspetti alcuni momenti anche dei dolori di di maria santissima dolori partecipati evidentemente alla passione di gesù bene riprendiamo da dove ci siamo lasciati quindi la volta scorsa ci siamo lasciati nel cenacolo dopo il cenacolo comincia il gezzemani e adesso quindi ci trasferiamo nell'orto degli ulivi il gezzemani in quel luogo assai suggestivo tuttora contemplabile evidentemente a gerusalemme gerusalemme nella sezione est della città perché il monte degli ulivi sta dalla parte est della città e subito dopo la valle del cedrono adesso c'è una bellissima basilica costruita proprio sull'orto degli ulivi dentro la quale vicino all'altare emerge dal suolo con una pietra bianca e che la tradizione tramanda essere stato il masso dell'agonia quindi è un posto molto 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 bello e dove però gesù ha vissuto la tragedia ecco perché è una tragedia atroce della passione spirituale vi prometto subito che anche negli scritti di di maria valtorta e questo caso gesù evidenzia il fatto che si tratta di un'esperienza che è stata più intensa della passione corporale ma sappiamo che chi segue chi conosce gli scritti di di luisa piccarreta peraltro sa anche che gesù rincara ulteriormente la dose cioè non soltanto la passione spirituale è più intensa di quella corporale ma addirittura la passione di tutta la vita che gesù ha ininterrottamente vissuto nella divina volontà in maniera atroce anche se non visibile all'esterno e non riusciamo certamente immaginarsela era addirittura negli scritti di luisa dice che la passione l'ultimo atto della passione che non insomma a chi ha un minimo di sensibilità un minimo di cuore ci lascia senza parole ci terrorizza insomma ci sconvolge ecco però quella roba da ragazzi insomma comunque apprestiamoci a questo viaggio e volentieri insomma e ne andiamo a vedere i contenuti gesù si porta nel gezzemani dove ha iniziato la sua tremenda agonia durante l'agonia alcuni fiorellini simili a piccoli gigli nati nel seno del masso sul quale ha appoggiato le braccia il masso dell'agonia abbiamo già detto parla loro voi le corolle siete pure voi mi date ristoro c'erano anche nella grotticella della mamma questi fiorellini e lei li amava perché diceva quando era piccino quando ero piccina diceva mio padre tu sei un giglio così piccino e tutto pieno di ruggiata celeste la mamma o mamma mia gesù ha uno scoppio di pianto col capo sulle mani congiunte ricaduto un poco sui calcagni lo vedo e l'odo piangere mentre le mani stringono le dita e le tormentano l'una all'altra sento che dice anche a bene poi riprende a pregare e a meditare gestisce verso gerusalemme poi torna ad alzare le braccia verso il cielo come per invocare aiuto si leva il mantello come avesse caldo lo guarda ma che vede i suoi occhi non guardano altro che la sua tortura e tutto serve a questa tortura ad aumentarla anche il mantello tessuto dalla madre lo bacia e dice perdono mamma perdono pare lo chiede alla stoffa filata e tessuto dall'amore di mamma se lo rimette è in uno strazio poi c'è la conclusione eroica di questo di questo stralcio della preghiera del gesemani no quello che attinenza con maria santissima sono delle scene veramente commoventi che fanno trasparire la bellezza dell'umanità di gesù guarda quei gigli quelle corolle forse era un mughetto non non si capisce mi pare che altrove lo identifica con quel con quella piatta bellissima molto profumata una cosa del genere era anche a casa mia quando ero piccolino e ricorda le cose che la mamma le raccontava che sangio a chi non gli portava e che lui stesso li portava alla mamma ma ora chi ti riporterà più sono veramente delle espressioni tenerissime che fanno anche capire la tenerezza e e lo splendore del rapporto di amore che c'era tra gesù e maria rapporto anche filiale quindi gesù sentiva veramente figlio amatissimo della migliore delle mamma delle delle mamme e come dire ripresentavano nella sua memoria umana in quei momenti queste scene di vita molto molto comune come molto molto belle molto commoventi e poi il mantello e a quei tempi e sante donne maria santissima certamente non era da da meno lavoravano assai lavoravano in casa i vestiti erano tessuti dalle dalle mamme ho letto proprio recentemente sulla mistica città di dio che un'altra opera che parla di maria santissima lì è bellissimo leggere tutte le altre queste cose perché poi in ognuna di questi nostro signore che non ha detto tutto a tutti ti dà qualche flash speciale no proprio recentemente leggevo quella gli ultimi anni della vita di san giuseppe san giuseppe è stato secondo la mistica città di dio di maria da greda gli ultimi anni della sua esistenza non pochi e minimo tre ma forse anche sette se non ricordo male gravemente malato quindi inabilitato al lavoro quindi lavorava soltanto gesù e in quegli anni si mise a lavorare molto quindi anche per distribuire lavoro fuori casa presumibilmente lavoro tessile appunto la madonna e il mantello di gesù era stato in tessuto era stato cuscito era stato realizzato da lei abbiamo già vista qualche tempo fa questa questa scena in un'altra sezione no gesù che piange sul mantello tessuto dalla dalla mamma nel gezzemani ma anche questa è un'immagine meravigliosa ci fa anche comprendere quanto grande ecco fosse la sofferenza di gesù di dover dare e doveva farlo perché lei doveva essere la nostra corredentrice ma di dover dare questa sofferenza immensa a sua madre e questa adesso si capisce da quello che leggeremo è stata una terribile tentazione di gesù nel gezzemani perché il diavolo ave se c'è proprio un essere proprio spreggevole proprio ripugnante proprio degno degno del massimo sdegno ecco mi si passi questo gioco proprio che suscita soltanto proprio un sovrano e assoluto disprezzo proprio è il diavolo perché di una viscidità di una crudeltà di una cattiveria becera proprio bieca cieca sorda carica di odio che è proprio inqualificabile andare a tentare il nostro signore gesù con l'amore alla madre no non puoi affrontare la passione ti pare che per dare questo dolore fai morire di dolore tua madre bella roba può dio volere una cosa di questo genere questo gli ha detto il diavolo gesù e infatti proseguiamo la lettura quindi la qui salta un pezzo perché però va alla conclusione di questa terribile agonia gesù gemme fra rantori e sospiri proprio d'agonia niente niente via la volontà del padre quella quella sola non ho che un signore il dio santissimo una legge l'ubbidienza un amore la redenzione no non ho più madre non ho più vita inutilmente mi tenti demonio con la madre la vita ho per madre l'umanità e la amo fino a morire per lei qui compare proprio l'eroe assoluto il nostro signore veramente il leone della tribù di giuda il vincitore però capiamo anche l'intensità prendiamo anche esempio da da queste cose cioè io non so quanti di noi saranno chiamati a a eroismi di questo genere no però gesù ha detto chi viene a me e non odia il padre la madre adesso la nuova traduzione della scena mi ricordo come dice no però ha come dire un po' circostanziato il senso di questa espressione forte no semiticamente forte è un semitismo questo modo di dire no i semiti sono esagerati ecco nell'uso del linguaggio proprio l'ebraico un linguaggio molto costruito proprio ho detto altre volte sulla sull'enfasi emotiva che caratterizza proprio questa cultura orientale bella è ecco però lui che l'ha detto è il primo che l'ha messo in pratica una delle cose più dolorose che il signore ci può chiedere in certi momenti a far soffrire chi ci ama per amore suo perché stiamo facendo la sua volontà questo è una delle cose più atroci che possa essere chi qualche volta l'ha vissuto capisce quello che sto dicendo però bisogna farlo ma no no io non lo faccio perché non voglio far soffrire quella persona sembrerebbe una cosa buona no ma non lo è non lo è a volte la volontà di dio ci può chiedere di fare qualcosa o non fare qualcosa che farà enormemente soffrire le persone che più amiamo queste sono sempre conversazioni condivisioni fraterne ma capite che il mio spirito sacerdotale insomma parte che me le dico anzitutto a me queste cose ogni volta che parlo come dire parlo prima per me e poi per gli altri no perché sono come dire meditazione ad alta voce anche anche le omelie anche le catechesi se vogliamo insomma io ascolto molto molto volentieri anche i miei confratelli di pari grado o superiori insomma che ne sanno più di me che fortemente mi edificano come ho avuto la grazia di vivere per tutta la settimana scorsa no ma anche quando parlo e condivido insomma con con le persone io sono coinvolto quindi queste cose le dico anche per me perché diceva sant'agostino per voi sono vescovo ma con voi sono cristiano io potrei dire per voi sono sacerdote ma con voi sono cristiano quindi sono anch'io in cammino ho la necessità di interiorizzare queste cose di metterle in pratica e ogni giorno di mettere qualche tassello in più come tutti dobbiamo in quanto cristiani al nostro cammino verso la santità poco dopo Gesù viene arrestato viene sottoposto a vari processi e infine condannato alla croce tragico l'incontro di giuda con maria questo è un altro particolare commovente drammatico straziante doloroso ognuno che l'ascolta insomma chi anche chi lo conosce gli dia l'attributo che che più gli sembra rispondente al vero ma è un particolare veramente forte tragico l'incontro di giuda con maria dopo la condanna del figlio mentre gira tutto stravolto fuori di sé urlando di tanto in tanto sangue sangue si ferma dinanzi alla casa del cenacolo vorrei dire una delle cose più interessanti dell'opera di maria valtorta che veramente io continuo a dire che è uno dei capolavori più belli che sia mai stato realizzato sul pianeta terra proprio per la sua multiformità anche di contenuti di spunti di elementi per esempio una cosa bellissima è studiarsi negli scritti la psicologia di giuda il mistero giuda ma anche le personalità degli apostoli che emergono anche lì insomma l'opera di maria valtorta tutti gli scritti sono 15.000 pagine quindi non è che sono soltanto l'opera sul vangelo se ne prenderà almeno un 10.000 adesso non lo so ma sono 10 volumi nell'antica edizione erano circa 3-400 pagine a volume insomma io adesso ce l'ho in digitale non saprei quantificarle però è tantissima roba ecco giuda è veramente una persona incomprensibile per certi aspetti si notano in lui delle dinamiche purtroppo che sono dei patterns nel senso che si possono tranquillamente rincontrare, rivedere in certi soggetti in certe situazioni anche molto molto più vicine a noi vediamo questo episodio di questo drammatico incontro la casa del cenaco riprendo la lettura è tutta chiusa come abbandonata si ferma giuda la guarda la madre la madre murmura la madre resta in sospeso ho anche io una madre e ho ucciso un figlio a una madre pure voglio entrare rivedere quella stanza là non c'è sangue da un picchio alla porta un altro un altro la padrona di casa viene ad aprire e socchiude l'uscio una fessura e vedendo quell'uomo stravolto irriconoscibile getta un urlo e tenta a richiudere l'uscio ma giuda con una spallata lo spalanca e travolgendo la donna esterrefatta passa oltre corre verso la porticina che mette nel cenacolo la apri entra giuda va verso la tavola guarda se vi è vino nelle anfore ce n'è beve avidamente dall'anfora stessa che solleva due mani si alza come spiritato ma il calice lo affascina un poco di vino rosso è ancora nel fondo e il sole percuotendo il metallo pare argento accende quel liquido sangue 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 anche qui il suo sangue il suo sangue fate questo in memoria di me prendete e bevete questo è il mio sangue il sangue del nuovo testamento che sarà sparso per voi ah maledetto me per me non può più essere sparso per l'emissione del mio peccato non chiedo perdono perché egli non mi può perdonare via via non c'è più posto dove il caino di Dio possa conoscere quiete a morte a morte lasciano di ghiaccio queste queste parole invito a cogliere in queste frasi del disperato Giuda qui Giuda non è lui a parlare diciamo così da voce umana a pensieri satanici al 100% d'altronde Gesù ha detto che dopo quel boccone satano entrò in lui sta peccando contro lo spirito santo queste parole sono la formalizzazione di un peccato contro lo spirito santo perché troppo grande il mio peccato per avere il perdono che lo disse anche caino significa disperazione della salvezza che è un peccato contro lo spirito santo che porta dritti dritti se non rimediato prima della morte e Giuda non lo ha rimediato prima della morte a quanto pare porta dritti dritti all'inferno questo si sia sempre di monito noi dobbiamo stare alla larga dai peccati mortali come dalla peste bubonica ma proprio la peste bubonica non ci devono stare i peccati nella nostra ma se Dio non voglia o estima qualche capitombolo immediatamente la confessione che non ti venga mai in mente che Dio non ti perdona perché se sei pentito puoi e devi chiedere perdono a Dio e puoi e devi sperare nel suo perdono esce si trova di fronte Maria ritta sulla porta della stanza dove Gesù l'ha lasciata ella udendo un rumore si è affacciata sperando forse di vedere Giovanni che manca da tante ore è pallida come una svenata ha degli occhi che il dolore fa ancora più simile a quelli del figlio Giuda incontra quello sguardo che lo guarda con la stessa accorata e cosciente cognizione con cui Gesù l'ha guardato per via e con un oh spaurito si addossa al muro Giuda dice Maria Giuda che sei venuto a fare le stesse parole dette di Gesù e dette con amore doloroso Giuda le ricorda e urla Giuda ripete Maria che hai fatto a tanto amore ha risposto tradendo la voce di Maria è carezza che trema Giuda fa per scappare Maria lo chiama con una voce che avrebbe dovuto convertire un demonio Giuda Giuda fermati fermati ascolta io te lo dico in suo nome pentiti Giuda e gli perdona ma Giuda è fuggito la voce di Maria e il suo aspetto è stato il colpo di grazia ossia di disgrazia perché egli le resiste va a precipizio incontra Giovanni che corre verso la casa a prendere Maria la sentenza è pronunciata Gesù sta per andare al Calvario è ora che la madre si è condotta al figlio Giovanni riconosce Giuda per quanto ben poco resti del bel Giuda di poco tempo prima tu qui gli dice Giovanni con palese di brezzo tu qui maledizione a te uccisore del figlio di Dio il maestro è condannato giubila se puoi ma sgombra la via vado a prendere la madre che l'altra tua vittima non ti incontri rettile Giuda fugge si è avvolto il capo nei brandelli del manto lasciando unicamente uno spiraglio per gli occhi la gente la poca gente che non è verso il pretorio lo scansa come se vedesse un pazzo e tale sembra e va ad impiccarsi giuda se lo volessimo leggere insomma con le categorie chiamiamole teologico morali insomma della divina volontà è proprio l'incarnazione della volontà umana intesa ovviamente in senso negativo la volontà la folle la follia resistere a queste parole della madonna ma qui proprio traspare la carità la misericordia l'identità userei dire insomma almeno su questo tra madre e figlio le stesse parole nota l'autrice dice che sei venuto a fare come disse Gesù al Giazzemani però Gesù non gli era detto in tono ma che sei venuto a fare cioè dobbiamo immaginarsi con queste scene io quando leggo cerco un po' di provare a dargli anche come dire una sceneggiatura reale non ha detto che sei venuto a fare Gesù ma che sei venuto a fare abbi pazienza che hai fatto quindi non sono parole di disdegno d'accordo o di amaro rimprovero certo sono carezze d'amore doloroso possiamo chiamarle così che cercano di svegliare di scuotere l'anima Gesù e Maria hanno questo stile ecco perché noi non possiamo non possiamo e non dobbiamo cioè chi conosce già il Vangelo perché basta e avanza il Vangelo ma chi poi ha queste possibilità questo dono anche l'opera di Maria Valtorta non è altro che un approfondimento un dettagliamento certamente una particolarizzazione o particolareggiazione se vogliamo mettiamo un po' di neologismi quindi di tutto ciò che comunque nel Vangelo è già contenuto questo vale per tutte però certamente come dire la 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 maggiore profondità quindi la maggiore puntualità la maggiore precisione quindi la molteplicità anche delle cose ti fanno come dire ti confermano in ciò che già il Vangelo ti ti trasmette perché lo stile di Gesù e di Maria è inconfondibile è questo che traspare da da questi incontri loro fanno così e noi quindi anche quando ci troviamo a fronteggiare una persona malvagia un nemico anche a combattere per la verità ho già detto in una media un intervento un monito bellissimo ecco che la settimana scorsa chissà forse proprio questo stesso giorno o il giorno prima ci ha fatto il cadino al sarà durante gli esercizi diceva tu devi difendere la verità devi devi parlare delle cose di Dio a volte devi anche combattere errori storture mai con odio mai con ira mai con rabbia questo dobbiamo impararlo tutti questo qua in primis chi ha il compito ecco di di pascere le pecorelle quindi sacerdoti vescovi eccetera non possiamo noi avere altro stile che questo è normativo è precettivo avere altre forme avere altri stili immediatamente ti mette dalla parte come dire quantomeno da un punto di vista del modo e dello stile del diavolo è una cosa fatta male anche quando è giusta ci diceva sempre il cardinal Petrocchi a noi giovani preti fare una cosa il bene fatto male è male non è bene e che osava quello che diceva Sant'Alfonso Maria di Liguori che amava ripetere non basta fare il bene ma occorre farlo bene cioè con i mezzi le forme gli stili i momenti le modalità giuste congrue adatte conformi al Vangelo conformi ai nostri modelli qui San Giovanni che l'ha che l'ha maledetto Giuda San Giovanni come dire certamente tutti noi sentiamo questa cosa bravo c'ha ragione no che anche noi siamo sempre molto molto umani sto brutto serpente a sonagli che andava a tradire il figlio di Dio poco che poteva da pure incazzotto insomma no ci potrebbe venire da dire ma questo non va bene questo qui perché questi se vogliamo usare un vocabolario paolino sono i rigurgiti dell'uomo vecchio non si maledice nessuno chi ha il potere se vuole di maledire e auguriamoci che non lo faccia mai è l'altissimo che può mandare benedizione o maledizione a chi la merita non noi però a commento di questo episodio dice Gesù se si fosse gettato ai piedi della madre dicendo pietà ella la pietosa lo avrebbe raccolto come un ferito e sulle sue ferite sataniche per le quali il nemico gli aveva inoculato il delitto avrebbe sparso il suo pianto che salva e me lo avrebbe portato immaginiamo che scena ai piedi della croce tenendolo per mano perché satana non lo potesse ghermire e i discepoli colpirlo portato perché il mio sangue cadesse per primo su di lui il più grande dei peccatori e sarebbe stata ella sacerdotessa mirabile sul suo altare fra la purezza con la P maiuscola che è Cristo e la colpa con la C maiuscola che è Giude perché è madre dei vergini e dei santi ma anche madre dei peccatori ma egli non volle vedete la volontà umana immaginiamo questa scena no? la storia sarebbe andare diversamente se Giude avesse fosse caduto ai piedi della Madonna a dire guarda l'ho fatta grossa quanto una casa tu non mi dovresti neanche guardare grazie per quello che mi dici aiutami fammi uscire da quest'inferno forse Giude sarebbe dopo la risurrezione sarebbe stato mandato come gli altri dodici apostoli non c'era bisogno di metterci Mattia e allora siamo nel tempo di di Quaresima no? questo è un tempo in cui dobbiamo tutti quanti pensare un po' e pensare seriamente episodi come questo di Giude a me fanno purtroppo pensare nella mia esperienza dei sacerdote e di vita anche umana di uomo ho avuto la disgrazia chiamiamola così o forse la grazia non lo so di assistere a tragedie analoghe purtroppo cioè di vite che in alcuni momenti fondamentali di fronte a dei bivi hanno fatto la scelta non sbagliata di più e come dicono in Sicilia sovvite che poi sono andate a finire a schifio e io che come sacerdote a volte anche in una veste diversa da quella sacerdotale conoscevo bene alcune situazioni lo so io quello che ho sofferto nel cuore e nell'anima perché ma c'è proprio un dolore immenso cioè nel vedere una persona che sta andando al suicidio di sé spirituale ovviamente parlo tu lo sai ne sei certo d'accordo quella è una persona intelligente potrebbe capirlo dovrebbe capirlo e non ci si può fare niente perché non vuole non vuole stare a sentire non vuole essere aiutato non vuole è la volontà capite lo strapotere che c'è il diavolo adesso in giro che ce n'è proprio le visate che si fa dalla mattina alla sera lui non avrebbe nessun potere se la nostra volontà non fosse dalla sua parte potere di diavolo uguale volontà umana che gliel'ha dato quindi è grande adesso il potere del diavolo urca se è grande grandissimo chissà se c'è stato un altro momento della storia in cui c'è avuto tanto potere quanto adesso ma chi è che lo ha armato chi lo ha armato noi lo abbiamo armato noi in un'anima che fa la volontà di Dio sapete quanto potere c'è del diavolo zero 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 la vicenda di Giuda è una vicenda tragica ma purtroppo magari fosse successo solo a lui cioè magari non fosse successo manca a lui ma se proprio doveva succedere magari fosse successo a uno solo ma questo si ripercuote questo si ripropone dicevamo tra noi quando eravamo più giovani si ripropone drammaticamente quindi facciamo una supplica al Signore eleviamola d'accordo Gesù salvami dalla follia della mia volontà fermami d'accordo fammi riflettere fammi riflettere sicuramente in certi momenti in certe situazioni in certi frangenti delicati prima di fare stupidaggini figlioli mei cari prima di fare la cosa sbagliata la scelta sbagliata mettersi dalla parte sbagliata combattere la guerra sbagliata o combatterla nel modo sbagliato d'accordo o frustrare quelli che sono i disegni di Dio su di noi in maniera proprio sciocca d'accordo quando sarebbe tanto facile evitare vi prego Papa Francesco dice per favore ve lo chiedo per favore pensateci pensiamoci per questo riguarda anche me attenzione perché ci sono a volte nella vita biforcazioni che sono strade di non ritorno è come se fosse una porta che si apre soltanto da una parte avete visto le porte antincendio no? si aprono da dentro ma una volta che tu esci poi da fuori non si aprono più sono bloccate quindi se tu esci e non c'è qualcuno che poi te li apre dentro non rientri più non puoi tornare indietro nella vita capitano cose di questo genere non sappiamo quali sono ma sappiamo che ci sono certo l'individuazione di quali sono se uno fa attenzione cioè ci può arrivare insomma quando capisce insomma che si trova davanti davanti a un bivio fondamentale no? non bisogna mai aprire quella porta che si apre soltanto perché dopo una porta che sta chiusa sta chiusa questa è stata l'ultima chance per Giuda di tornare indietro e di ripensarci manco questa e anche il suo andare in questa scena delirante no? al cenacolo leggiamo sempre chi ce l'ha portato lì? la divina volontà ce l'ha portato lì per dargli l'ultima chance l'ultima Gesù lo dice l'avrebbe portato sotto la croce quindi voi sapete ho detto altre volte no? mi hanno riferito un pochino di tempo fa che non lo so se lo stanno già facendo o se lo vogliono fare negli Stati Uniti stanno producendo delle serie tv credo interattive che hanno il finale a scelta cioè capite? noi un film oppure una serie uno quando sono fatte bene sono avvincenti perché la gente dice voglio vedere come va a finire no? il finale può essere drammatico può essere magari che more qualcuno che tu devi affezionare a quel personaggio diciamo è morto qui cioè d'accordo quindi il finale può piacere o può non piacere d'accordo? ma è comunque un finale cioè avrebbero dovuto essercene altri no? e allora fa pare che adesso dice bene fino a numero uno fino a numero due fino a numero tre e fino a numero quattro vedi quella che ti piace di più eh ma questo vale questo cioè questo vale pure per noi e ne vedremo tante delle belle questo cioè la storia dell'umanità è cominciata con un fiasco clamoroso con una pagina che non avrebbe dovuto essere mai scritta è stata la pagina del peccato originale una pagina che ha causato conseguenze allucinanti nella storia dell'umanità cioè tutta l'umanità è stata coinvolta e travolta in questa cosa e c'è una storia della razza umana diversa da quella che Dio avrebbe pensato questo perché il destino quindi una vita come dire ineluttabilmente determinata non esiste noi siamo realmente liberi questo bisogna mettercelo bene in testa siamo realmente liberi non è uno scherzo questo qui e anche se Dio sa come sarà il futuro Dio prende atto delle nostre libere scelte non sottoscrive quelle negative ma se sono negative lui ne prende atto ho detto tante volte che se c'è una cosa di cui ha quasi 50 anni di vita sto quasi in mezzo del cammino di nostra vita 15 anni e mezzo quasi 16 ormai di ministero sacerdotale se c'è una delle poche certezze che ho maturato poche perché più passa il tempo e meno ce ne stanno sulle cose che non sono chiaramente di fede di morale quelle le certezze rimangono sempre le stesse ma sulle cose un po' più dettagliate ma se c'è una cosa di cui sono certissimo non me la toglierà dalla testa nessuno con una cosa che oso dire che certamente Dio non farà non ha mai fatto e non farà come ti permetti e me permetto non forzerà mai nessuna libertà umana non lo fa questo qui non lo fa l'inferno esiste come attestazione di questa radicale come dire osservanza da parte di Dio dello statuto di creatura intelligente libera con cui lui stesso ci ha creati e se non lo osservasse rinnegherebbe se stesso perché noi siamo fatti noi siamo immagini di somiglianza sua perché siamo realmente liberi e se uno venisse forzato non lo sarebbe d'accordo e non sarebbe l'artefice del proprio destino noi lo siamo non al 100% certamente perché per il bene ci vuole la grazia di Dio ma la grazia di Dio Dio ce la dà d'accordo non siamo come dire autonomi e capaci di fare da solo ma anche questo è uno dei pochi punti fermi che possiamo stabilire Dio ce lo dà l'aiuto perché vuole che liberamente andiamo verso il bene non ce lo farà mai mancare l'aiuto per questo la prima cosa che gli chiediamo nel Padre nostro che ci ha insegnato lui stesso a chiedere sia santificato il tuo nome cioè fammi diventare santo a me se è la prima delle richieste che Gesù ci ha insegnato vuol dire che è la prima cosa che Dio esaudisce con tutta quanta la sua longanimità e la sua magnificenza e munificenza possibili e immaginabili no? allora chiudiamo sì chiudiamo così assistendo a questa ultima scena no? verso le 10 e 30 dal venerdì santo l'apostolo Giovanni si rega da Maria entra nel cenacolo cade in ginocchio contro il sedile su cui era Gesù e piange chiamandolo con dolore poi dice oh Dio oh Dio altissimo aiuta aiutami a dirlo alla madre io non ho cuore eppure devo dirlo io devo dirlo perché sono rimasto solo quindi facendo uno sforzo inaudito si porta alla stanza di Maria apre l'uscio si incontra con Maria tra un profluvio di lacrime le chiede umilmente perdono per aver dormito mentre Gesù chiedeva il conforto della loro veglia e di essere fuggito allorché fu arrestato anche il grande San Giovanni si deve giustamente accusare di queste cose ha dormito quando Gesù aveva chiesto ai suoi amici vegliate con me ed è scappato quando l'hanno arrestato poi si è ripreso l'unico che si è ripreso subito gli scritti di Maria Altorta dicono che anche Simone Lozelote si è ripreso subito anche se non compare sotto la croce la Madonna chiede dove è mio figlio madre io madre madre è condannato risponde Maria lo so ti chiedo dov'è in questo momento ho fatto tutto il possibile perché mi vedessi ho cercato di ricorrere a chi è potente per ottenere pietà per farlo per farlo soffrire meno non gli hanno fatto molto male non mentire Giovanni le risponde la Madonna neppure per pietà di una madre non ci riusciresti e sarebbe inutile io so da ieri sera l'ho seguito nel suo dolore tu non le vedi ma le mie carni sono contuse dai suoi stessi flagelli ma alla mia fronte stanno le spine ho sentito le percosse tutto ma ora non vedo più ora ignoro dove è il mio figlio condannato alla croce alla croce alla croce oh Dio dammi forza egli mi deve vedere non devo sentire il mio dolore finché egli sente il suo quando poi sarà finito tutto fammi morire allora fammi morire allora oh Dio se vuoi ora no per lui no perché mi veda andiamo Giovanni dove è Gesù ci metto un segno e ci fermiamo qui cosa dire di questa di questa scena insomma questa ultima pericope ecco che abbiamo letto insomma dove parla la Madonna anzitutto dicendo a Giovanni di non mentire le bugie non si dicono neanche per pietà di una madre addolorata attenzione alle bugie le bugie non si dicono mai per nessun motivo in nessun caso e con nessuno scopo non si dicono né le bugie grosse né le bugie piccole né le bugie di scusa e neppure le bugie di scherzo o di gioco dice San Tommaso da qui la menzogna via dalla nostra bocca poi la Madonna rivela e rivela la sua doppia partecipazione alla passione di Gesù ho seguito tutto è inutile che menti è da ieri sera le mie carne sono cotture dai fragelli sulla mia fronte stanno le spinose tu le percose tu non le vedi ma io le ho vissute quindi questo la Madonna ci sta dicendo che lei ha rivissuto misticamente ma veramente esattamente tutto quello che il figlio ha vissuto e che lei ha seguito tutto fino a questo momento perché possiamo pensare noi il Signore a un certo punto l'ha oscurata perché da questo momento in poi alla partecipazione quindi alla visione mistica doveva succedere la presenza e la partecipazione reale lei doveva essere proprio fisicamente presente e questo sarebbe stato un dolore ulteriore per lei e un dolore per il figlio ma poi qui ancora traspare il cuore di questa creatura che più bella e più eroica non c'è come prega in questo momento dammi solo la forza di non sentire il mio dolore finché egli sente il suo ora non me lo posso permettere perché ora io devo consolare lui comprendiamo ecco mi è venuto in mente a noi adesso è sempre guarissima di pregare davanti a Gesù dicendogli così quanto ti offendono gli uomini quanto ti offendono chiunque i tuoi ministri d'accordo gli uomini di chiesa forse ci abbiamo detto signore mandami qualche sofferenza a me e così consolati tutte quante sto schifezze che si vedono in giro anche in quali i cambi da volte anche proprio dove non dovrebbero vedersi non devi soffrire tu fammi soffrire a me per questa cosa qui questa è grande preghiera certo che bisogna fare attenzione a fare queste preghiere perché poi il nostro signore le prende sul serio poi le sofferenze arrivano non è che non arrivano però vedete la la maturazione della vita cristiana cioè noi stiamo sempre noi soffriamo un pochino e cominciamo a lamentarci e diciamo Gesù perché mi fai soffrire? se tu diventi cristianamente maturo con un amore solido a Gesù sei contento dici manda manda la Madonna disse a Fatima guarda guarda il mio cuore coronato di spine che ce ne infilano i peccatori senza nessuno che si preoccupi di toglierne qualcuna facendo degli atti di riparazione Gesù quando rivelò le rivelazioni sul Sacro Cuore disse le stesse cose che lui sarebbe molto felice se incontrasse anime riparatrici anime che lo consolano dell'indifferenza degli oltraggi dei peccati degli uomini allora capite il santo non è quello che pensa la panza sua e che appena arriva una piccola cosa si lamenta ma è quello che pensa Gesù e se gli può togliere un dolore glielo toglie volentieri lo prendo io questi hanno fatto i santi glielo toglie